Guys, Positano News è sempre presente, è vero, grandi lavoratori sempre, ciao ragazzi, ecco finalmente, al lavoro per il porto, ce la facciamo per l'estate, ce la facciamo, Positano News, il giornale, ecco ragazzi, buona notizia, stanno a lavoro, per l'estate faranno il porto d'uovo, è vero? per l'estate il porto d'uovo, ecco lì, dal lavoro, tempo di palma, ecco qua, primo giorno di lavoro, finalmente, avete tre attrezzi, abbiamo qua il capocantiere, state facendo i lavori o no? Finalmente i lavori al porto, ce ne è messo un po' di tempo, allora è venuto, cosa è venuto a portare tutto il materiale, la barca sta lì? del pontone, del pontone, a portare, ora i lavori procederanno spediti perché si avvicinano la stagione del turismo, allora che cosa si farà? si farà, i pali che vanno a fare, hanno fatto la palificazione per rafforzare tutto, diciamo, il molo, in modo che non succeda tutto, con una piattaforma di cemento sopra, e poi dopo i vasoli su, ah bene, grazie, di palma, al lavoro, finalmente, la buona notizia, ecco, il pontone l'abbiamo già preso, l'ontananza, che ha portato tutti i suoi attrezzi, ecco qua, buon lavoro.